Sono io quello che cercate. Queste le poche parole che Raffaele Rende, 27 anni, ha detto agli agenti della Polizia di Stato che lo hanno rintracciato l'altra sera in un appartamento di San Giovanni a Teduccio, dopo due giorni di caccia all'uomo scattata dopo il ferimento giovedì sera del poliziotto Nicola Barbato durante un servizio anti-racket a fuori grotta. A Rende è stato notificato un decreto di fermo della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli come indiziato di duplice tentativo di omicidio, estorsione aggravata, detenzione e porto abusivo di arma, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Gli stessi PM della DDA con il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli lo hanno interrogato a lungo nella notte nella questura di Napoli dove è stato poi trasferito nel carcere di Secondigliano. Per lui da più parti si chiedono pene esemplari. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha annunciato per domani decisioni importanti per Napoli anche alle luce di quest'ennesimo fatto di cronaca.